a rieccomi allora mi riprometto di guardare i video di fabio cares sui mondiali sui suoi pronostici sul mondiale lui ha analizzato girone per girone ecco io non farò una roba del genere cercherò di fare una roba un po più svelta più stringata lascio a lui e alla sua grande competenza ragazzi siamo ci siamo cresciuti un po tutti con fabione caressa quindi è un grande non lo scopro se certo io allora proviamo a fare il caressa dei poveri stamattina stasera anzi e vediamo di parlare tra l'altro ho un sospetto tornando al video di prima ma poi ve ne parlerò ho un sospetto vabbè al video di juve inter ho un sospetto ma ve ne parlerò più in là un sospetto che mi fa piacere però eh potrebbe anche farmi piacere qua se è fatto male un titi mi sa che che cazzo allora mondiale in qatar io vedrò di fare dei ragionamenti dal punto di vista meramente tecnico ma purtroppo essendo considerando il paese in cui si gioca considerando le circostanze eccezionali mondiale ottobre novembre a novembre dicembre considerando tutto il resto temo questo possa essere un mondiale pesantemente condizionato da certe robe un po' sulla anche se c'è il varre un po' sulla falsa riga di quello che successe in corea di quello che successe tanti anni fa in argentina in cile e tutto il resto insomma un mondiale in vecchia maniera con smaccati favoritismi innanzitutto alla squadra di casa e poi a tale tale altre squadre allora il ciro ne ha qatar ecuador olanda senegal qui proprio questo girone iniziamo col botto per me questo girone ha proprio le caratteristiche speculari o peculiari a volte non so che cazzo dico affinché vadano avanti le due meno titolate perché adesso vi spiego il qatar io bisogno che di riffo di raffa almeno il girone glielo faranno passare di riffo di raffa al qatar il girone glielo fanno passare non lo so come questa impressione è uno quindi è inutile è inutile parlare di altre storie perché sarà così l'altra che per me potrà andare avanti al senegal di voi mi direte ma come c'è l'olanda l'olanda a parte il fatto che non ce la vedo benissimo l'olanda non ha praticamente attacco l'olanda in tanti suoi elementi escluso van dike forse non stanno facendo una grande stagione in tanti non stanno facendo una grande stagione forse i punti di chi giochi sta giocando con continuità sono tu un freeze dell'inter e magari dei young del barcellona ma gli altri ma onestamente non è una squadra anche se ha fatto un'ottima nation league ma onestamente il mondiale un'altra cosa è in qatar un'altra cosa con un avversario come il senegal è parecchio insidiosa parecchio insidiosa la cosa perché perché qui il senegal catal a parte era il tifo dei padroni di casa perché sono musulmani tutte queste robe qua non dimentichiamo che il catar stato è stato tra i maggiori finanziatori dell'isis quindi non quasi quasi c'è da stare contenti che l'italia non ci è andata vabbè comunque non vedo benissimo l'olanda e qui potrebbe davvero scapparci la prima sorpresa con catar e senegal davanti l'equador francamente ci do poche speranze girone b ora inghilterra galles stati uniti iran iran sempre che l'iran ci partecipi ecco io penso che quando andranno avanti le due britanniche perché il galles in genere non lo vedo battuto dagli stati uniti e poi l'iran l'iran che potrebbe che in un altro e un altro stato potrebbe tranquillamente giocarsi la qualificazione con galles e stati uniti ma un po per quello che sta succedendo in questo paese non so che con quale spirito i giocatori se ci vanno perché non lo so ho come l'impressione che qualcosa succederà in questi giorni non lo so caso mai dovessero andarci poi l'iran paese sciita in uno dei più retrivi paesi sunniti voi capite bene che non penso siano proprio benvenuti gli iraniani ok in quel paese là per tutt'altro che per ragioni diritti umani perché in catara sono anche peggio per dirvene una quindi io vedo tranquillamente andare avanti le due britanniche sì qualche speranziella ce l'hanno gli stati uniti ma onestamente penso che alla fine vadano avanti a parte che è un periodo in cui sono più in forma quindi vedo le due britanniche terzo girone terzo girone terzo girone ci sono argentina polonia arabia saudita messico ecco l'arabbia saudita è un'altra che praticamente gioca in casa praticamente gioca in casa perché il catar non è che un appendice dell'arabbia saudita praticamente stesso discorso per il catar anche qui qualche favoritismo me lo sogno per i sauditi guardate cosa vi arrivo a dire l'arabbia saudita per me si gioca il passaggio ai gironi per motivi spesso extra calcio le altre due sono polonia e messico la polonia dal dopo dopo gli anni di boniec non ha mai praticamente non ci hanno mai praticamente azzeccata una tranno i quarti di finale euro 2016 praticamente e l'altra il messico che oggettivamente è stato più forte in altre circostanze poi c'è l'argentina l'argentina che vedo un po vedo un po come il brasile nel 2002 e poi vi spiego perché quindi intanto rissa rissa intanto mamma mia che partitaccia udine se lecce comunque stavo dicendo qui vedo guarda adesso mi sbilanci qua vanno avanti argentina e arabia saudita per entrambi per motivi politici anche se l'argentino ovviamente è nettamente più forte delle altre e andiamo al girone di francia da rimarca tunisia altra nazionale di religione islamica qui che anche qui i padroni di casa hanno un occhio di riguardo potrebbe essere una non dico una sorpresa ma una che potrebbe dare fastidio poi c'è francia da rimarca gli ultimi vedete non al contrario di quel che dice qualcuno la francia 3 4 5 squadre non la vedo tanto facile questa per i francesi oddio per me di passare riusciranno a passare anche perché essendo il cataro un paese il paese anche del paris saint germain non penso che qui vedo qui vedo qui vedo la danimarca un po più in forma qui vedo adesso vi dico qui vedo francia e danimarca avanti ma con grosse sofferenze con grosse sofferenze girone e questo per me è un girone che non ha praticamente storia germania spagna giappone costa rica ma onestamente il calcio tedesco è sempre calcio tedesco poi deve riscattare i due ultimi tornei andati non proprio bene la spagna che ha una ha un'ottima squadra ma non certo ai livelli di un 5 6 anni fa quindi vedo tedeschi primi e spagnoli secondi girone f belgio croazia marocco arabia saudita e marocco canada allora il belgio questo lo vince a punteggio pieno nonostante quello che si dica perché il belgio comunque è all'ultimo appuntamento sicuramente vorrà far bene secondo me con il belgio ci vedo il marocco ci vedo il marocco un po' per questioni ambientali e un po' la croazia oggettivamente il suo meglio pare che l'abbia già dato quindi non penso la croazia faccia tanta strada stavolta quindi vedo belgio marocco avanti girone g brasilia e serbia svizzera camerun qui vedo il brasile proprio anche spinto dal tifo guardate perché i paesi arabi sono innamorati del calcio brasiliano quindi tant'è vero che molti brasiliani sono andati ad allenare da quelle parti più i brasiliani che gli argentini devo dire anche se l'argentina ci faccio un discorso tra poco allora vedo il brasile poi chi accompagna chi accompagna serbia svizzero camerun temo temo che con brasilia che il brasile perché hanno praticamente lo stesso girono di quattro anni fa solo che al posto del del camerun c'era il costa rica quattro anni fa io penso che vada a finire come quattro anni fa con brasilia è prima la svizzera seconda perché la serbia un modo per perdere lo troverà ultimo girone il portogallo l'uruguay la sud corea e il gana ora fino a due giorni fa quando non si era ancora fatto male son che non so che infortuna ha avuto e qua per quanto ne avrà io la corea l'avevo rimessa fra le possibili sorprese ora ma ma la vedo un po dura vedo il portogallo vince il girone a mani basse e l'uruguay non lo so forse l'uruguay secondo ma con grande fatica ora con questi con questi diciamo mie teorie gli ottavi di dovremmo vedere dovremmo vedere dovremmo vedere le britanniche contro catar e senegal l'inghilterra contro il senegal o contro il catar che è la più forte squadra africa africana senegal io penso che comunque vada a fine il girone a a passare ai quarti saranno anche stavolta le britanniche che il galles per quando lo sia tecnicamente una squadra eccelsa è una squadra molto solida molto solida penso che inglesi e gallesi andranno avanti ai quarti di finale tranquillamente poi gli altri quarti abbiamo l'argentina ci arrivo adesso ci avremo la francia contro l'alabia saudita e qui andrà avanti la francia tranquillamente nonostante il fattore campo eccetera eccetera francia che nei quarti a questo punto dovrebbe incontrare il galles ok mentre argentina e danimarca dobbiamo fare un discorso intanto ha pareggiato l'udinese dobbiamo fare un discorso in un mondiale normale la danimarca per questa argentina sarebbe stata davvero una brutta bestia in un mondiale che per me si può essere l'ultimo sai com'è gli hanno regalato almeno due palloni d'oro vuoi che non gli regalino la possibilità di arrivare in fondo al mondiale il suo ultimo mondiale l'accostamento con maradona sapete com'è alla fifa le fanno ste robe le fanno ricordatevi il brasilio del 2002 il rientro di ronaldo il miracolo ricordate il brasilio del 2002 quando pensate all'argentina di quest'anno ricordate il brasilio del 2002 quindi va avanti l'argentina va avanti l'argentina magari con qualche svista arbitrale quindi abbiamo i primi due quarti di finale che sono francia galles e inghilterra argentina poi germania marocco va avanti la germania poi c'è spagna belgio e spagna belgio vi dirò per me va avanti il belgio per me va avanti il belgio potrebbe essere una bella partita ma il belgio per me ha ancora qualcosa in più poi brasilio e uruguay non c'è anche da dirlo va avanti il brasilio perché l'uruguay oramai il suo meglio l'ha dato avrà solo cavani in età avanzata su ares non ci sarà più sarà già un successo per l'uruguay arrivare agli ottavi guardate quindi brasilio avanti ai quarti con la germania per una grande rivincita e poi portogallo svizzera ma per me qua vanno avanti senza dubbi portoghesi che nei quarti affronteranno il belgio ora giochiamoci sti quarti di finale giochiamoci sti quarti di finale francia galles seppur soffrendo per me va avanti la francia perché perché il galles è una squadra molto quadrata il galles la goleata non gliela fai al galles la goleata non gliela fai va avanti la francia e poi eh inghilterra argentina inghilterra argentina quanti quante coincidenze ragazzi quarti di finale messi e l'idea di maradona in un mondiale normale io direi inghilterra in un mondiale normale io direi inghilterra nel mondiale in catar dico argentina ripeto in un mondiale normale direi inghilterra in un mondiale in catar dico argentina quindi va avanti l'argentina germania brasile germania brasile allora germania brasile no sì 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 germania brasile chi vince chi vince affronta l'argentina in semifinale il brasile ha la grande opportunità di prendersi la rivincita del famoso 7 a 1 ma purtroppo per i brasiliani che sono una squadra troppo leggerina là davanti dico ancora germania germania in semifinale contro l'argentina belgio portogallo belgio portogallo il portogallo ha uno squadrone il portogallo ha uno squadrone il portogallo ha uno squadrone ragazzi però il belgio diciamo che è all'ultima opportunità il belgio quindi va avanti il belgio quindi va avanti il belgio cristiano finisce forse la sua carriera nazionale spazzo le nuove leve il portogallo resta fortissimo avrà anche altre occasioni e ora giochiamoci sei semifinali belgio francia riedizione riedizione della semifinale di quattro anni fa belgio francia qui finisce ai rigori qui finisce ai rigori che la francia non sta giocando bene e quando uno non gioca bene contro una squadra che prende pochi gol ai calci di rigore va avanti la squadra che non gioca bene quindi va avanti la francia francia in finale signori francia in finale signori argentina germania argentina germania e qui una volta giunti lì a quel punto lì lì fanno tutte le motivazioni e penso vada avanti l'argentina vado avanti l'argentina anche perché voglio ricordare che si c'è la finale dell'86 ma poi ci sono quattro precedenti a favore dei tedeschi la finale del 90 la finale del 2014 e i quarti del 2010 e del 2006 quindi finale argentina francia finale intanto vi dico subito germania belgio finale per il terzo posto vincolo i tedeschi argentina francia secondo voi la fifa si fa sfuggire l'occasione di far vincere il mondiale a messi non è un mondiale normale questo purtroppo me lo aspetto così argentina campione del mondo signori argentina campione del mondo proprio perché non sarà un mondiale normale ho purtroppo questo presentimento iscrivetevi al canale per la Grazie.